Dopo le numerose azioni da parte del comitato Giù le mani dalla mensa, tra cui la calza con la pasta precotta indirizzata all'assessore Tanti, è lo stesso assessore che prova ad aprire al dialogo. Dopo la befana e le calze con il carbone, dice la Tanti, tradizionale appuntamento che cade il 6 gennaio di ogni anno, è il momento di tornare a un calendario più serio di carattere politico e amministrativo. Parlo di quello che è stato delineato fin da dicembre e che dovrà portare una decisione definitiva sulla cosiddetta super mensa. Stanno infatti per essere ricapitate le lettere di convocazione ai vari gruppi di genitori che hanno presentato in questo periodo le rispettive proposte. Ci saranno dunque più appuntamenti a Palazzo Fossombroni a fine gennaio per un confronto. A quegli incontri ci saremo io, i funzionari degli uffici comunali e le carte progettuali valutate dai tecnici dell'amministrazione che avranno nel frattempo espresso un giudizio di fattibilità concreta sui quattro progetti in campo. Il project financing per la super mensa, che è quello al quale va la mia preferenza, a dimostrazione del fatto che mi piace sempre giocare a carte scoperte. La super mensa con risorse comunali senza ricorrere al project, soluzione che implicerebbe scelte repentine di redistribuzione di risorse nel bilancio e dunque il sacrificio di opere già programmate, magari proprio sull'edilizia scolastica, il potenziamento delle 12 cucine esistenti, chiamiamola la proposta della calza, sei cucine, una per ogni istituto comprensivo. L'assessore Tanti ne approfitta anche per fare chiarezza quando si parla di super mensa. A oggi dice abbiamo 58 istituti scolastici serviti da 12 mense, di queste 3 non verranno comunque chiuse. La scuola Cesti, un nido comunale dove si consumano 55 pasti al giorno, la Modesta Rossi con 107 pasti giornalieri per un nido e una scuola dell'infanzia e l'Urciolaia dove i pasti sono 135 distribuiti sempre tra bambini che frequentano il nido e bambini che frequentano la materna. Si scende dunque a 9 mense per 55 istituti. Questo è il quadro attuale. Dunque la conclusione, secondo l'assessore, è che la super mensa finirebbe per ridurre le cucine da 9, numero già esiguo rispetto alle scuole da servire, a una. O meglio, da 9 piccole e vecchie, sempre secondo la Tanti, a una moderna ed efficiente. Non è quindi una questione di numeri ma di modernità, qualità e sicurezza alimentare, conclude l'assessore.